Stiamo seguendo da molto tempo la storia delle tre sorelle Napoli. Io sono molto grato al sindaco Giardina che questa sera ha deciso di venire qui su questo palco, dietro a queste due meravigliose chiese che dominano il paese, per parlare e dialogare. Credo che dialogare serva a risolvere una storia o quantomeno a tentare di trovare una soluzione serena che merita la stessa mezzoiuso. Io spero che questa sera qualcosa cambi. Ci vediamo dopo la pubblicità, sarà una puntata molto, anche se qui fa fresco, credo molto viva. Ci vediamo dopo, grazie. E allora l'appuntamento da non perdere con Massimo Giletti dopo il telegiornale.